La crisi economica che ha investito l'Italia negli ultimi anni ha portato un numero crescente di famiglie e piccole imprese a ritrovarsi sommerse dai debiti cui non si riesce purtroppo a far fronte. Una situazione che coinvolge migliaia di consumatori e società anche in Campania. Esiste tuttavia nel nostro ordinamento una legge pressoché sconosciuta il cui obiettivo è proprio aiutare consumatori e aziende a ridurre il carico di debito accumulato negli anni. Spiega il Codacons. Si tratta della legge numero 3 del 27 gennaio 2012 che introduce le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, strumenti per mezzo dei quali ai cittadini e alle piccole imprese e data la possibilità con l'intervento del giudice di ridurre i debiti diventati eccessivi fino al 50% del loro importo. Proprio a tutela delle famiglie e delle piccole imprese in difficoltà il Codacons lancia anche in Campania un'azione legale contro il sovraindebitamento. Tutti i cittadini e i piccoli imprenditori strozzati dai debiti, seguendo la procedura indicata sul sito www.codacons.it, possono ottenere l'aiuto di uno staff di legali ed esperti dell'associazione, che valuteranno le singole posizioni e assisteranno consumatori e aziende nell'iter da avviare per ottenere la riduzione fino al 50% dei debiti accumulati. Inoltre, tali soggetti possono verificare attraverso il Codacons se ricorrano i presupposti per ottenere i benefici previsti dalla legge e valutare la procedura più adeguata da avviare per salvare il proprio patrimonio.